Ciao ragazzi, oggi vedremo insieme come al di là dell'ansia, della paura, della paura anche di cosa accadrà dopo, in realtà dalla situazione di emergenza che stiamo vivendo possono nascere nuovi spunti e riflessioni creative. Non so se avete notato anche voi come in questo tempo che sembra sospeso, si stanno un po' stravolgendo vecchi modi di pensare, modelli di pensiero, pregiudizi. Il primo che mi viene in mente è il concetto di diversità, che stiamo vedendo come si sta stravolgendo. Mi spiego meglio. L'emergenza del coronavirus ha fatto sperimentare un po' a tutti noi la sensazione di essere quelli diversi, i discriminati. Questo, come vi ricorderete, è successo prima alla Cina, che è stata discriminata rispetto al resto del mondo. Poi è successo all'Italia, al nord Italia, dove ci sono stati i primi contagi rispetto al sud Italia e in questi giorni è accaduto e sta tuttora accadendo a tutta l'Italia intera rispetto all'Europa e al resto del mondo. Quindi un po' tutti noi abbiamo sperimentato la sensazione di essere quelli diversi, di essere attaccabili, abbiamo sentito di essere vulnerabili. Se anche voi avete provato queste sensazioni sicuramente sarà stato destabilizzante, questo è normale. Però penso anche che imparare questo sulla propria pelle, quindi al di là di ogni teoria, ogni insegnamento che può nascere da un libro, impararlo in maniera così diretta serve a capire che in realtà nessuno è diverso, o meglio, che tutti possiamo essere diversi all'improvviso. Questo penso che ci aiuti a rimetterci in connessione con il mondo, quindi a recuperare il mettersi nei panni degli altri e non so se anche voi sentite nell'aria una riscoperta dell'empatia che, come ben ricorderete, prima di questa emergenza stava diventando un concetto sempre più raro. Questa emergenza quindi ci sta ricordando ogni giorno come tutti siamo uguali. Il coronavirus non fa infatti, come sapete, distinzione di classe sociale, colore della pelle o nazionalità, ma attualmente tutto il mondo è esposto alla stessa paura e allo stesso grado di rischio. Io penso che proprio questa esposizione contemporanea alla fragilità, basti pensare a quello che stiamo vedendo in Italia, ci ha aiutato a recuperare un senso di comunità, di cooperazione e anche un senso di responsabilità personale. Basta pensare a tutte le situazioni di volontariato, di sostegno che stanno nascendo spontaneamente in questi giorni. E quindi il narcisismo e l'individualismo della nostra epoca, in realtà vediamo come vengono sconfitti giornalmente di fronte al bisogno di tutti noi e all'esigenza di dare un contributo e di riceverlo. Quindi stiamo facendo sempre più caso come tutti siamo parte di un ingranaggio e che il contributo di tutti in realtà serve e come. Quindi sta diventando sempre più evidente come siamo parte di un tutto più grande che va avanti anche al di là di ogni volontà personale o di ogni controllo. Tutto quello di cui vi sto parlando, quindi il recupero dell'empatia, dell'uguaglianza, di un senso di responsabilità o di comunità, in realtà è avvenuto in maniera piuttosto inconsapevole e anche in un tempo breve, anche se non so se anche a voi vi sembrerà che la quarantena, insomma la stiamo facendo da un tempo molto più lungo, in realtà è passato poco. E proprio perché tutto questo è avvenuto in maniera automatica dobbiamo fare attenzione a non perderlo, ma dobbiamo porre attenzione, fare una riflessione su quello che abbiamo capito, farci caso. Ecco vi invito a fare caso a quello che voi avete imparato in questo mese, quindi alle cose che avete imparato di voi stessi o degli altri durante questa emergenza e soprattutto a quelle che vorreste mantenere, perché una volta che tutto questo sarà finito, quindi nel tempo post coronavirus, sarebbe bello mantenere quello che abbiamo imparato, anzi forse è proprio un dovere a cui tutti siamo chiamati, mantenere quello che stiamo vedendo ogni giorno e che stiamo imparando anche ad un prezzo molto alto, quindi non vanificare il sacrificio di tutti. E in questo penso che voi ragazzi, con la vostra energia, la vostra voglia di futuro, potreste essere i capofila, quindi insegnare un nuovo modo di stare al mondo e stare con gli altri, sicuramente avrete da insegnare molto a noi adulti. E grazie per l'attenzione, spero che questo contributo vi sarà utile, restiamo lontani ma vicini, arrivederci. Grazie Grazie Grazie